Mi dicono spesso che non vi ha alcun bisogno di riprodurre la realtà per quello che è. Forse è vero o contrario. La realtà, così come la pittura, spesso vive di inganni o forse di illusioni. Al mio nome di battesimo, Michelangelo, ho preferito quello dei luoghi in cui si intrecciano le radici della mia famiglia. Caravaggio Dai produttori di Firenze e gli Uffizi e di Raffaello, il principe delle arti, un evento cinematografico unico, un'esperienza visiva straordinaria. Un viaggio senza precedenti attraverso la vita, le opere e i tormenti di uno degli artisti più amati al mondo. La mia arte vi stupirà, vi cambierà. Caravaggio, l'anima e il sangue Penso che non ci sia niente nelle tenebre E ci sia tutto nella luce Scelgo la luce